L'hangar è vicino. Veloci. Sì, signore. Questa bagnarola resisterà. Non voglio restare per scoprirlo. Forza. Dannazione. Ci servono tre diversi codici per aprirla. Fantastico. Beh, vediamo di trovare. Morton. Qui dunque c'è qualcun altro. Almeno abbiamo il primo codice. Ci servono tre codici. C'è qualcuno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dammi un attimo di respiro. Finalmente. Andiamocene. 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 Solo un. Mi servono trecmo. 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 Progett! Capitano! Mi servono trecmo. Li abbiamo tutti. Andiamo indietro. Mi servono trecmo. Mi servono trecmo. L'attivante che ci si fai. Oh, oh, oh. No. Andiamo. Mi seguo. Mi seguo. Non c'è tempo per queste cose. Non c'è tempo per queste cose. Non c'è tempo per queste cose. Mettiamolo in moto. Non c'è tempo per queste cose. Non c'è tempo per queste cose.